Sono Mauro D'Alto, ho 30 anni, sono nato a Conegliano a Veneto e per il secondo anno corro per il team Liquida Scamber. Per il mio 2012 vorrei solo serenità, poi per il resto penso che il mio lavoro lo sappia fare nella maniera più adeguata. E niente, varie... varie che? Sto battuto, sono niente a forno.